E' stata inaugurata a Piazza Dante una nuova fontana per l'acqua potabile, gratuitamente concessa al pubblico da un residente della zona. Presenta il sindaco Barbagallo che ha assistito alla benedizione della fontana in pietra lavica. Essendo una concessione di un privato, non si pone il problema di un migliore utilizzo delle risorse, dato che, diversamente da altre parti della città, esiste già un punto d'acqua nella stessa piazza. Soddisfatto il primo cittadino che vede compiuto il primo passo per la concreta realizzazione del patto di collaborazione fra comuni e cittadini. Diciamo che non è una questione di pregio, un valore economico, è un segnale importante perché la cittadinanza, in seguito al regolamento che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, la cittadinanza collabora. In questo caso può essere una fontanella, in un altro caso può essere la pulizia di un'area verde. Di fatto c'è una collaborazione fra la cittadinanza e l'amministrazione. E' questo quello che vogliamo, è questo che più importa. Di là del valore economico della fontanella che in questo caso viene installata. Quindi il valore reale è quello di una collaborazione fra i cittadini, in questo caso ringrazio la famiglia storina che si è occupata di questo, quindi una collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione. Questo è il valore importante, il valore che ci deve far continuare in questo senso e finalmente inizia ad esserci una coscienza fra i cittadini e il regolamento ha permesso anche questo. Da tempo pensavo di far questo, adesso l'ho fatto. Grazie aiutato magari con il contributo di alcune persone vicine a me, ho realizzato questo sogno per me, grazie anche al sindaco e alla collaborazione del sindaco e della SOGIP. Siamo riusciti in questo. Mi auguro che il mio esempio venga seguito magari da altri cittadini. Grazie a tutti.